Prima settimana di stop considerato il play-out che ha visto in campo l'Olimpia agnonese. Salvezza per l'Avezzano che ha battuto 2-1 il Sant'Arcangelo e il Gironef si chiuderà ufficialmente con la finalissima play-off tra Matelica e Reganatese. La settimana prossima considerato che il Matelica sabato 18, dopo domani quindi, scenderà in campo a Latina contro il Messina per la finalissima di Coppa Italia di Lettanti. In casa Campobasso abbiamo riportato diverse news in questi giorni grazie alle parole del direttore generale Filippo Polcino alle nostre telecamere. Un lupo proiettato al futuro con grande entusiasmo dalla possibilità di un nuovo impianto alla volontà espressa di chiedere ripescaggio in Lega Pro fino ad un rafforzamento dei quadri tecnici per l'allestimento della squadra del prossimo anno. Pochissime conferme tra i giocatori, un nuovo allenatore e la volontà chiara di creare un organico di assoluto livello. Che sia Serie D o Lega Pro servirà una squadra forte in quarta serie per vincere, mentre l'ex Serie C per mantenere la categoria, se pensiamo che il prossimo campionato di Lega Pro vedrà protagoniste Catania, Palermo, Bari, Foggia, Avellino, Cesena, solo per citarne alcune. Insomma, un livello davvero tra società blasonate in rappresentanza di piazze importantissime nel panorama del calcio italiano, davvero livello altissimo. A breve delle novità, come detto dallo stesso DG, con una conferenza stampa ufficiale per rendere noti alla piazza alcuni passaggi importanti che si stanno susseguendo in questa fase. Non è riuscita l'impresa all'Olimpia agnonese, retrocessione amara perigranata nel campionato di eccellenza dopo un'annata davvero complicata. Tre gestioni tecniche, due volte Meco Monaco ed una Foglia Manzillo, diversi giocatori che hanno reso molto al di sotto degli standard. Una stagione dove la continuità nei fatti non c'è mai stata, oltre il problema del Civitelle, con tre mesi giocati a Trivento. Nel corso del campionato i Granata non sono mai riusciti ad inannellare una serie positiva utile per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione e solo all'ultima giornata l'agnonese si è garantita il play-out. Nel match di domenica scorsa i limiti a livello offensivo, quasi nulla, le occasioni da rete dei Granata e gli errori difensivi che hanno marchiato indelebilmente la stagione degli Alto Molisani. Nel gol dell'Avastese, l'annata dell'Agnone, prima un fallo laterale battuto con leggerezza e poca cattiveria, poi il fallo da rigore di Bisceglia davvero incomprensibile. Peccato perché in caso di parità al novantesimo, nei due tempi supplementari, poteva succedere di tutto. Così non è stato ed ora in casa agnonese si leccano le ferite di una retrocessione, come detto, davvero molto amara, con il pensiero fisso che si poteva e si doveva fare meglio. Lo sguardo al prossimo futuro. L'idea del ripescaggio è davvero concreta, con un posizionamento elitario, primi o pressapoco sul podio, in ordine per rientrare in quarta serie. L'idea è assolutamente fattibile. Adesso, nell'immediato, c'è voglia di riordinare le idee e smaltire nel modo migliore il duro colpo. Sicuramente la forza dovrà venire da un rinnovato entusiasmo per tornare in serie D dalla porta di servizio e non ripetere gli errori fatti in questa stagione. Importante in tale ottica è il segnale lanciato dalla famiglia Colaizzo, che martedì, presso lo studio legale Marinelli, ha saldato e chiuso tutte le spettanze con i calciatori. In un mondo calcistico sempre più in crisi, l'esempio della società agnonese è davvero un fiore all'occhiello per serietà e amore verso i colori. Nonostante la retrocessione, nessuna coda o strascico polemico con i tesserati. Davvero complimenti alla famiglia Colaizzo e a tutto lo staff dirigenziale Alto Molisano. Un segnale che dimostra la voglia di chiudere il prima possibile con il passato e proiettarsi con spirito positivo al futuro. Anche a Disernia la società ha chiuso le spettanze con i tesserati, anche qui un segnale assolutamente da rimarcare da parte della società. Le possibilità economiche sono state esaurite al massimo, peccato che non sia arrivata la salvezza. Ma sicuramente oggi l'Isernia, come l'Agnone detto poc'anzi, sono due società pulite e senza debiti. In Casa Bianco Celeste non viene esclusa nessuna ipotesi ad oggi, anzi si sta sondando il terreno per capire l'effettiva collocazione dell'Isernia in un'ipotetica domanda di ripescaggio. Al momento una possibilità da non scartare, certo si andrà per le lunghe considerando che i pentri sono retrocessi direttamente in eccellenza. Quindi bisognerà aspettare l'effettiva composizione dei prossimi organici dei campionati per avere qualche riferimento in più.